È diventato un lago il vallo che circonda le mura di Montagnana, un'immagine simbolo del disastro che si è abbattuto in questa zona della bassa padovana. Nessun danno al centro storico, la situazione è drammatica nel resto del comune a partire dalla strada regionale. Addirittura c'è un pezzo di strada della circovalazione che ha ceduto. Sì, un pezzo di strada della circovalazione che è una strada regionale, dovuto anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, questa tanta, ha fatto sì che ha ceduto circa 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circovaliazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune, ci fa un po' il quadro della situazione? La situazione per quanto riguarda questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchine, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi dove abito io, c'è mia madre, 95 anni, che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua, il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere. E quindi questo dà, specialmente nei cantenati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere, è veramente pericoloso. Allora, poi abbiamo situazioni critiche nelle frazioni. Scuole chiuse in tutto il comune, al lavoro senza soste, i dipendenti del comune, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cittadini. Notte in sonne anche per il sindaco. Stiamo predisponendo tutto dal punto di vista di carte, in modo da avere proprio la calamità naturale.